In questo video vi parlo delle acque salate. Come base faccio sempre riferimento al Wikibooks Scienze della Terra per le superiori. Le acque salate sono le acque che caratterizzano oceani e mari e occupano la maggior parte dell'acqua presente sul pianeta Terra. Per descrivere le acque salate bisogna cercare di capire che cos'è la salinità, la temperatura e la densità che caratterizza quest'acqua. Inoltre vi esiste un ciclo dell'acqua che vedremo alla fine. Iniziamo dalla salinità. L'acqua del mare, degli oceani, contiene sali e per esprimere questa quantità di sali si parla di salinità che è una percentuale di sale. Si può pensare una percentuale di sale in 100 grammi, quindi quanti grammi di sale ci sono in 100 grammi di acqua e il valore medio è 3,5%. Se pensiamo a un chilo di acqua, cioè circa un litro, chiaramente bisogna fare per 10, quindi avremo il 35 per 1000. Quindi un mediamente, un litro circa di acqua, contiene 35 grammi. Ecco, questa immagine con la caraffa, forse si vede meglio qua. Questa immagine vuole appunto far capire quanto sale c'è, ovvero un litro d'acqua, abbiamo, che è circa un chilo, ci sono 35 grammi di sale, che è un cucchiaio bello pieno. Perché c'è sale nell'acqua del mare, degli oceani? Perché il sale viene raccolto dai corsi d'acqua superficiali e profondi che scorrono sui continenti, perché l'acqua sui fiumi, sulle falde acquifere scorre sulle rocce, in mezzo alle rocce, e da queste rocce vengono prelevati dei sali, sali che poi si concentrano nei mari e negli oceani, perché quando evapora l'acqua del mare i sali non evaporano, per cui tendono a concentrarsi con il tempo. Il sale, la salinità, i sali presenti nell'acqua marina, è composta principalmente da cloruro di sodio, la formula chimica è NaCl, che è il sale da cucina, che rappresenta l'87% dei sali e il cloruro di sodio conferisce il caratteristico gusto salato all'acqua di mare. Un altro sale, invece, il solfato di magnesio, dà all'acqua di mare anche un gusto leggermente che è amarognolo. Questa immagine mostra come varia la salinità al variare della latitudine. Stiamo parlando della salinità sulla superficie del mare, perché la salinità poi cambia anche con la profondità. Infatti qua dice Sea Surface Salinity. Il numero che vedete qua sotto è il per mille. Vediamo che la salinità è massima, con i colori più verso il rosso rosso scuro, e minima con i colori verso il blu viola. Per cui vediamo che la salinità è massima, per esempio, nelle fasce tropicali, al tropico del Cancro e del Capricorno. È massima nei mari chiusi, dove c'è elevata evaporazione e scarso apporto di acqua dolce, per esempio il Mar Mediterraneo, il Mar Rosso, il Golfo Persico. Sono tutte zone dove c'è un'elevata evaporazione perché fa abbastanza caldo, però non ci sono grandi fiumi che apportano acqua dolce, per cui la salinità tende ad aumentare. Poi notiamo che la salinità è più bassa invece nella fascia, nella zona dell'equatore, perché è vero che anche all'equatore fa caldo, però nella zona equatoriale il clima è molto piovoso e la pioggia sappiamo che apporta acqua dolce, per cui la salinità è un po' più bassa rispetto alle due fasce tropicali. Poi osserviamo che la salinità è relativamente bassa in corrispondenza delle foci di grandi fiumi, per esempio qui davanti al Rio delle Amazzoni o qui nel Golfo del Bengala dove sfocia il Gange o qui nel Mar Nero dove sfocia il Danubio. Quindi laddove ci sono grandi fiumi che escono al mare la salinità è un po' più bassa, anche che probabilmente, adesso qui non si vede, di fronte al Nilo, la salinità sarà più bassa rispetto al resto del Mediterraneo. E poi chiaramente la salinità si abbassa andando ad alte latitudini perché c'è una scarsa evaporazione. La salinità inoltre varia con la profondità perché il sale fa aumentare la densità dell'acqua, per cui l'acqua più salata tende a scendere verso il basso e per cui andando in profondità troviamo acqua più salata perché è acqua più pesante. Andiamo a vedere qualche altra immagine. Questa è un'immagine che spiega i diversi tipi di acqua con diverse salinità. Proviamo a ingrandirlo. PPT vorrebbe dire parti per mille, quindi è una percentuale per mille, diciamo. Quindi abbiamo le cosiddette acque dolci che hanno una salinità molto bassa. Poi abbiamo, per esempio, l'acqua del Black Sea, sarebbe il Mar Nero. Mar Nero vediamo che ha una salinità abbastanza bassa, del 18 per mille, perché è un mare chiuso con un grande apporto di acqua dolce da parte del Danubio e di altri fiumi. Poi andiamo verso la media, qui siamo attorno ai 35 per mille. Il Mediterraneo, vedete, ha una salinità un po' più alta, siamo attorno ai 38 per mille. Il Red Sea, il Mar Rosso, siamo attorno ai 40. Ecco, questa immagine mostra una sorgente, credo, un corso d'acqua per far capire che il sale deriva dalle rocce attraversate dall'acqua nei fiumi o nelle falde acquifere. Questo schema mostra la composizione salina dell'acqua di mare, quindi si parte da qua a sinistra e dove si fa vedere che il sale è 3,5%. Poi di questo 3,5% la maggior parte è clorio e sodio, infatti il sale più abbondante è il cloruro di sodio, il sale da cucina, e poi in minore concentrazione abbiamo solfati, magnesio, calcio e potassio. Per esempio il solfato di magnesio era il sale che vi dicevo prima, che rende l'acqua del mare un po' amare. Questo grafico mostra come varia la salinità con la profondità, il grafico blu. Vedete si parte da una salinità di un certo tipo attorno ai 32-33 per 1000 e andando in profondità vedete che la salinità aumenta fino ad arrivare a 34, quasi 35 grammi. su chilogrammo. Questo è un altro grafico che mostra le percentuali, quindi di tutta l'acqua il sale è un 3,5% o 35 su 1000 e di questa quantità abbiamo soprattutto cloro e sodio, infatti il cloruro di sodio e il sale e poi gli altri sali. Bene, quindi abbiamo visto la salinità, andiamo adesso a parlare della temperatura. Per quanto riguarda la temperatura possiamo notare attraverso questo grafico che la temperatura superficiale almeno degli oceani dipende soprattutto dal clima e quindi abbiamo la fascia tropicale equatoriale dove il mare è relativamente caldo. Se guardiamo i colori siamo attorno ai 28, circa attorno ai 28 gradi e poi man mano che andiamo verso i poli la temperatura diminuisce fino ad arrivare anche a sotto zero. Ecco ricordo che la temperatura di congelamento dell'acqua marina contenendo sali è attorno ai meno 2 gradi centigradi. La temperatura diminuisce anche con la profondità, guardiamo questo grafico che mostra l'andamento della temperatura al variare della profondità. In ascissa abbiamo la temperatura inordinata la profondità. Qui partiamo da circa 24 gradi per cui saremo in una zona diciamo relativamente calda vicino ai tropici e vediamo che nei primi centinaia di metri la temperatura non scende molto poi invece c'è una zona detta termoclino che va dai 200 fino ai 1000 metri di profondità in cui la temperatura scende abbastanza rapidamente e poi sotto i 1000 metri la temperatura si abbassa ancora ma non così rapidamente fino ad avvicinarsi allo zero nelle profondità oceaniche. La densità e la pressione. La densità indica quanta massa c'è nell'unità di volume, questo è il concetto fisico e la densità dell'acqua marina dipende principalmente dalla sua salinità. Più sale c'è più l'acqua è densa e anche dalla temperatura. La salinità quindi aumenta nelle zone dove l'acqua è più salata. Per esempio nelle zone tropicali dove sappiamo che c'è una forte evaporazione l'acqua è più salata e quindi è più densa. Anche nelle zone polari l'acqua è abbastanza densa sia perché è molto fredda sia perché quando si forma il ghiaccio, in genere il ghiaccio è acqua dolce per cui sale rimane nell'acqua e va ad aumentare la sua densità. Questo fa sì che nelle regioni polari si formino delle correnti, delle masse di acqua salata che essendo più pesanti scendono più dense, scendono in profondità formando delle correnti oceaniche verticali. La pressione, altro concetto importante, a livello del mare esiste solo la pressione atmosferica e vale un'atmosfera per definizione. Poi man mano che andiamo in profondità si aggiunge anche la pressione dell'acqua che equivale a un'atmosfera ogni 10 metri di profondità per cui se una persona va in profondità, va a 10 metri di profondità percepirà una pressione di 2 atmosfere perché una è quella dell'aria più un'atmosfera per i 10 metri di acqua. Quindi questo vuol dire che nei fondali oceanici la pressione è estremamente elevata si può arrivare a mille atmosfere nella fossa delle Marianne e questo è uno dei motivi per cui i sbacqui riescono ad arrivare fino a qualche decina di metri di profondità perché altrimenti potrebbero morire schiacciati dalla pressione. Vediamo anche brevemente il ciclo dell'acqua. Partiamo dall'oceano dove l'eraggiamento solare determina l'evaporazione il vapore acqua poi risalendo si raffredda e a un certo punto questo vapore acqua condensa formando goccioline d'acqua e queste gocce d'acqua formano le nuvole. Dalle nuvole poi si possono avere le precipitazioni che possono avvenire sia sopra l'oceano ma anche nella terraferma precipitazioni piovose o nevose e da queste precipitazioni si formano delle acque superficiali sopra la terraferma acqua che può o penetrare in profondità nelle falde acquifere oppure scorrere in superficie attraverso i corsi d'acqua. In ogni caso l'acqua prima o dopo scende e ritorna al mare o agli oceani e da qui poi ricomincia il ciclo attraverso l'evaporazione. Sui continenti anche qui ci può essere evaporazione oppure attraverso le piante si parla di evapotraspirazione. Il motore di tutto questo ciclo chiaramente è il sole con la sua energia solare.